Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV in studio Marco Gargini. Infipili per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, tre chilometri di coda verso Livorno e un chilometro di coda verso Firenze. Tre chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 47.300 tra Ponte d'Eraest e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Codè in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, spostandoci in A1 in direzione Bologna per lavori corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e ci sono 4 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Per traffico intenso Codè a tratti tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico-Baccheraia in direzione Bologna e tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione Roma. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Prato-Est e l'allacciamento con l'A1 verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!